E c'è stata questa botta risposta a distanza tra lei e Lilly Gruber, lei ha detto insomma una sciocca comunista per quello che dici. No, non è vero. No? Non è vero. E allora è stato ripreso? Io non ho detto niente. Il libro ha pubblicato un articolo su Lilly Gruber scritto da una donna, da Costanza Cavalli. Lei siccome probabilmente sa parlare ma non sa leggere ha pensato che l'avessi scritto io nonostante ci fosse una firma corpo 14 quindi o è cieca o non capisce quello che legge e mi ha attaccato in modo sessista. Cioè dicendo che io sono, non ricordo come si chiama la malattia, l'andropausa grave, ignorando che l'andropausa non è una malattia, non è una patologia ma è un fenomeno naturale che hanno tutte le persone che hanno la fortuna di invecchiare. Perché l'unico modo per non invecchiare è morire giovani e io questa scelta non l'ho fatta. E le donne anche hanno la menopausa ma non è che è grave avere la menopausa ma siccome lei è menopausa almeno da 20 anni non può dare a me malato di andropausa. Allora ho risposto anch'io sul piano sessista ma è stata lei a offendere me immotivatamente visto che non ero l'autore dell'articolo.